Hai delle linee guida, immagino se devi fare una foto per... Il codice Arari, come tu hai il codice Montemagno. Esatto, c'è il codice Arari dove ti dici... Qual è il codice Arari? Vado a fotografare Vasco Rossi e tu dici, ok, da un lato lo devi conoscere, dall'altro hai le tue, no? Anche quello che ti vuoi portare a casa. Come funziona? Allora, devi essere psicologo, babysitter, tante cose, prima ancora di essere fotografo. E soprattutto con alcuni puoi avere il tempo di un incontro, di chiacchierare come stiamo facendo noi e quindi di annusarsi, no? E capire dove vuoi andare a parare. Con altri non c'è questo tempo e devi partire a razzo, a freddo. Con i musicisti c'è sempre stata e c'è tuttora una specie di telepatia dove si parla... I musicisti napoletani, per esempio, non parlano in napoletano, in italiano, usano un codice che si chiama Parlesia. Ecco, questa Parlesia, l'equivalente di questa Parlesia è una telepatia, sì, tutto un linguaggio che capiscono loro, molto particolare. Quindi questa telepatia ti permette di saltare tutta una serie di passaggi e di arrivare a parlare la stessa lingua nel momento in cui si vuole visualizzare qualcosa. Con dei soggetti non musicali, che io però tratto sempre come se fossero delle rockstar, perché quando hai davanti Rita Levi Montalcini hai davanti una rockstar e la tratti come tale, quindi senza molta riverenza, quella classica riverenza. Devi avvolgere questi soggetti in una specie di incantesimo, far capire che sei, prima dicevo curioso, ma a volte devi anche far capire che sei un po' innamorato anche di questo, del tuo soggetto, per catturarlo in poco tempo. Questa è un po' la chiave. E poi il racconto emerge da questo, ovviamente come dicevi ci si prepara prima, ci si documenta, si portano determinate luci piuttosto che altre, si sa magari già in anticipo dove si andrà a realizzare la foto. Però poi al momento in cui hai davanti il soggetto devi essere pronto a rivoluzionare tutto, ed è lì che il racconto si fa largo. A volte scopri proprio nel momento in cui stai cominciando qualcosa che non sapevi del soggetto e quella ti sembra l'idea migliore. Per esempio ho una foto di Morricone, che avevo fotografato in due o tre occasioni, avevo sempre capito che non amava farsi fotografare, però subiva questa corvée. Una volta a casa sua ebbe un moto di impazienza e mi disse, guardi io veramente ho accettato, ma non so neanche perché, ho un'idea. Mi nascondo dietro la porta e faccio spuntare i miei occhiali, che sono degli occhiali molto caratteristici, un po' come quelli dell'Avermüller. Quindi dissi, fantastico, quando il soggetto ti dà proprio, mette la testa sul ceppo e tu come il boia puoi tirare giù la tua accetta, è fantastico. E quindi è venuta fuori una foto che non avrei neanche immaginato. Ecco, questo è, il racconto a volte lo fa il soggetto inconsapevolmente.